La storia di due ragazze ucraine convinte dai connazionali a trasferirsi a Novara con il miraggio di un lavoro dibadante e costrette a prostituirsi. Questo il tema del volume Clienti di Maria Dele Garavaglia, presentato al Salone del Libro dalla giornalista e scrittrice Maria Pia Bonanate e dal presidente dell'Associazione Liberazione e Speranza Onlus di Novara Andrea Lebra, che aiuta le donne a uscire dalla tratta. L'evento, realizzato in collaborazione con la consulta delle Lette del Piemonte, ha visto l'attrice Maria Rosa Franchini leggere una selezione di brani dell'opera.